Giornata conclusiva, abbiamo ribadito il concetto che la dieta mediterranea è un modello alimentare mediterraneo che non soltanto fa bene alla salute e attraverso il suo valore nutritivo, ma è un modello alimentare che fa bene anche al pianeta in quanto essendo basata su prodotti vegetali ha un minore impatto sulle risorse naturali in termini di perdite di biodiversità, di carenza, di suoli, eccetera. Quindi è un modello alimentare che fa bene anche all'economia in quanto attraverso il turismo sviluppa anche delle attività artigianali che fanno crescere l'economia locale ed è un modello alimentare culturale in quanto è radicato nelle tradizioni dei popoli mediterranei. Un confronto che attraverso il mondo scientifico accende ancora una volta il riflettore su un prodotto della cultura che è la dieta mediterranea, riconosciuta patrimonio dell'UNESCO per farla entrare nella vita di ogni giorno. Perché la dieta mediterranea altro non è che un modello alimentare ma anche dell'agricoltura e della pesca che coniuga l'economia, la salute e l'ambiente. Quindi un grande sforzo dovrà essere fatto perché entra nella vita di ogni giorno ciascuno di noi. Ieri sera in giunta abbiamo deliberato questa cosa innovativa che comunque serviva sicuramente alla nostra regione, un piano organico che prevede un insegnamento all'interno delle nostre scuole appunto dove si parlerà della dieta mediterranea, inoltre un'indicazione sull'utilizzo della dieta mediterranea all'interno di tutte quelle mense pubbliche, vedasi le mense degli ospedali, vedasi le mense delle scuole. Quindi qualcosa veramente di innovativo che vede il nostro governo in prima linea su questo, con l'assessorato della salute ed altri assessorati di contorno su questo argomento. Si è capito che c'è un'urgenza di trovare delle strategie perché la dieta mediterranea è tanto buona ma nessuno la segue e se non la si segue bisogna trovare delle strategie che non sono soltanto a livello locale, neanche nazionale ma internazionale. Si è raggiunto un grossissimo risultato perché le tre più importanti organizzazioni internazionali che operano nel Mediterraneo, la FAO, l'Unione per il Mediterraneo e il Siam hanno convenuto di andare insieme con una strategia comune per rivitalizzare i sistemi alimentari mediterranei al cui interno vi è anche la dieta mediterranea, è una grande conquista. Senza la regione Sicilia questo non sarebbe stato possibile, c'è stato un grosso investimento, un grosso sforzo di risorse umane, non è stato assolutamente facile ma lavorare su cinque location, una più bella dell'altra nel cuore di Palermo indubbiamente ha aiutato moltissimo il successo dell'iniziativa. In ultima una delibera di ieri sera sull'importanza della dieta mediterranea nelle scuole. Questo è un ulteriore elemento che conferma di fatto che sta aumentando anche la consapevolezza a livello politico. Dalle semplici affermazioni si sta anche passando a delle azioni concrete.